good morning si qui sono le 10 e come dico in questi casi certo non una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's april 27 2022 and it's a wednesday here in april 71.6 fahrenheit around 22 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in his days disappeared but also over because for me seems more as a summer climate than spring climate as for the video tools as always i'll do it separate from this so for those are interested i anyway as you and you all just see from the window it seems that this afternoon temperature potrebbe addirittura anche salire in 23 24 25 celsius in my but we'll see but surely with this atmosphere today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and i think all along the way si penso fino alla fine della giornata ovviamente qui un po di meno essendo più ore già rispetto a voi essendo già mattina tenolta si per cui bene anche ieri l'avevamo speriamo di continuare così anche domani con questo trend per cui say that it is so from the musical window with the red orange blue green water curtain and it's green yeah iiit roller shooter behind me on the top not visible and infactor in the shot and finally from mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 E' un saluto davvero a tutti E' un saluto davvero a tutti La farò tra poco Insomma come sempre pronto Non so se lo sentite E spero soprattutto vi possiate consolare Se il tempo con la colazione Se il tempo alle vostre parti E' particolarmente brutto So I'll see you in the video Toots in the case I'll do it for tomorrow